La lista dei sanitari non vaccinati si allunga in Irpinia, ad Avellino al Moscati spuntano 52 nomi tra medici e infermieri non in regola e complessivamente in Irpinia sono 70 i lavoratori da mettere in regola. Il contagio avanza, 6 morti in 14 giorni, si abbassa l'età media dei contagiati mentre dilagano le varianti e il presidente nazionale dell'IBCLC, neonatologo e pediatra, il dottore Gerardo Chirichiello, invita tutti a vaccinarsi. Noi medici dobbiamo comportarci con serenità, rivolgendosi alle fondi ufficiali che sono affidabili e dare la nostra opinione basata sui studi dell'evidenza scientifica. Insomma, gli studi confermano l'efficacia del vaccino per mamma e bebè durante la gestazione come durante l'allattamento, senza che infici il calendario vaccinale del neonato. Continuare a vaccinare le donne perché durante la gravidanza l'infezione da covid può dare dei problemi molto seri. Per quanto riguarda l'allattamento sappiamo già da numerosi studi che il bambino avrà dei vantaggi in quanto sette giorni dopo la vaccinazione alla mamma sono stati trovati anticorpi protettivi. E per il vaccino in futuro da somministrare sotto i 12 anni, per l'esperto nessun dubbio si può e si deve fare. I bambini diventerebbero, se non vengono vaccinati, probabilmente delle possibili serbatoi di varianti e quindi potrebbero costituire una minaccia anche per i nonni o i genitori già vaccinati.